buona giornata tante volte mi dicono ma vorrei fare questa cosa vorrei ottenere quel risultato non mi piace il risultato che sto ottenendo bene se fai quello che hai sempre fatto otterrai quello che hai sempre ottenuto ho sentito dire tante volte qualche amico qualche conoscente mi piacerebbe raggiungere quello ma lo vorrei fare continuando a fare quello che facevo ieri no mi dispiace io sono il primo non funziona così bisogna impegnarsi cambiare installare nuove abitudini nuove cose ovviamente dobbiamo cominciare a fare il primo passo quindi oggi quello che ti chiedo è fai il primo passo solo così raggiungerai quello che ti chiedo daniele paci per felicità e pace om shanti 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 buona giornata